Il mio intervento credo si giustifichi, almeno questo mi è stato chiesto, per il fatto che ho ereditato la direzione della Review International Sociology, di International Journal of Review of Sociology, che Gini ha preso come direttore nell'anno 54, fondando una seconda serie. Io non ho nessuna difficoltà a sposare le conclusioni a cui è arrivato nella sua analisi, che è la più vicina in fondo alle mie competenze, il professor Golini precedentemente. Gini era sicuramente una persona di grande fascino, di enorme cultura, di mostruosa curiosità, di sconfinata capacità di lettura. Uno sguardo alla sua biblioteca è veramente illuminante, perché anche i libri più insignificanti sono stati da lui chiosati, con appunti a margine, quindi dimostrano un interesse, d'altra parte, delle recensioni a cui faceva riferimento Golini, e la sua capacità di lavoro sono veramente indicative di questa personalità scientifica. Il suo cammino sul piano della sociologia fu un cammino invece non in linea con quelli che sono stati poi gli sviluppi moderni della sociologia. Quindi un cammino, se vogliamo, accidentato e per certi aspetti costellato anche di errori. Il primo errore fu quello di seguire la posizione di René Worms, che fondò l'Institut Internationale de Sociologie e la Revue Internationale de Sociologie, perché era appunto fondato su quella teoria organicistica, sia pure appunto su analogie sostanziali, come ricordava Golini, però di fatto quella teoria poi Gini l'ha mantenuta fino alla fine. Gli appunti di sociologia che sono del 1947-1948-1949, quegli appunti testimoniano come Gini sia rimasto su quelle posizioni. Un secondo errore che Gini forse ha commesso e che l'ha portato su una pista, su un binario, che in qualche modo poi divergeva rispetto, e rispetto ai rapporti internazionali. Gini ha avuto rapporti con il fiorfiore della sociologia. Ricordo che nelle lezioni che tenne Harvard e il suo assistente era Bob Merton, sicuramente a quelle lezioni partecipò anche Talco Parsons, aveva rapporti con Sorokin, ha avuto nel comitato direttivo della rivista persone come Ogburn, ha avuto contatti con veramente i più grandi sociologi dell'epoca. E tuttavia a un certo punto il suo cammino si distacca da quel percorso e prende una direzione che va per conto suo. Quando lui prende in mano la rivista, eredita la direzione della rivista, e prima ancora, l'anno prima, cinque anni prima dell'Institut, Gini imposta quella rivista in una direzione che prosegue appunto sulle analogie di tipo organicistico e sugli studi che vedono come fattori primari della società il fattore geografico e il fattore biologico. Nulla di male se avesse dato un peso proporzionato, una ponderazione adeguata anche ad altri fattori, ma in realtà questi rimangono gli aspetti preponderanti nello studio di Gini. Quando nel 1949 si fonda l'Isa, l'International Sociological Association, Gini punta i piedi, cerca di inglobare l'Isa all'interno dell'Institut, non ce la fa e quindi prosegue su una linea che però lo porterà in una divaricazione progressiva rispetto a quella che poi fu la sociologia accademica internazionale. Una sociologia che voleva chiudere i conti con tutto quello che era stato sia l'epoca positivistica alla quale Gini si agganciava attraverso Comte, attraverso Spencer, sia con la sociologia praticata all'interno dell'Institut, l'International Sociologie, che veniva in qualche misura, come dire, tacciato di essere in misura collaterale rispetto al fascismo e rispetto al nazismo. Non è un caso che tutte le sue frequentazioni e i convegni che tenne all'interno dell'Institut si condussero proprio all'insegna di questa diversità e di questa marcata connotazione. Finisco con un ricordo che non trovo mai citato in nessuna delle opere che hanno cercato di fare il punto sulla personalità scientifica di Gini. Gini, con l'andare del tempo, accentuò questa dipendenza rispetto a quei caratteri primari che riconoscevo prima, che indicavo prima, e cioè la biologia, la genetica e la geografia in particolare, perché nel 1962 Gini fonda un comitato internazionale per lo studio degli ominidi pelosi. Gli ominidi pelosi sono gli studi che riguardano appunto quei ragazzi selvaggi, loieti e altro. Non è un caso che nei suoi lavori, lui fa due lavori, uno nel 62 e uno nel 65, pubblica su Genus, che riguardano proprio l'uomo dell'oieti e gli uomini primitivi. Nel comitato che fonda ci sono i più grandi paleontologi, paleontografi, criptozoologi e quant'altro, personalità di grandissimo rilievo a livello internazionale, per esempio dello Smithsonian Institution, e però Gini a quel punto si sposta completamente al di fuori di quello che è il percorso nel quale si muove la sociologia accademica. I suoi studi hanno come riferimento primario quello che lui chiama l'uomo dissociale, l'uomo dissocialus, che in una certa misura, come dire, contrappone proprio all'uomo sociale, quindi è il ragazzo della Veyron, se volete, che poi verrà filmato da Truffaut, è quel, come si chiama lì, Gaspar Hauser, che poi verrà filmato da Werner Herzog. Sono appunto questi soggetti che si collocano un po' al di fuori di quello che è il percorso dell'uomo sociale. A lui non interessa, in fondo, il rapporto di socialità, interessa la formazione della socialità. Non è un caso che in un lavoro, devo dire interessante, che lui pubblica su Genus e che riguarda il concetto di società, forse il lavoro più centrale dal punto di vista dell'analisi sociale di Gini, la prima preoccupazione di Gini che gli esprime proprio all'inizio del lavoro è quella di come far rientrare la specie vegetale all'interno del concetto di società. Ecco, questo era appunto questo radicamento, questo andare alle radici della formazione dell'elemento sociale da parte di Gini, che non gli ha permesso di agganciare il suo percorso scientifico a quello che era un percorso parallelo che andava in tutta direzione. Sarà Castellano a partire dagli anni 70, quando chiese appunto che l'institut venisse inserito all'interno dell'ISA statunitense, sarà Castellano tentare di modificare quel percorso. E devo dire che i miei professori, sia Federici sia Castellano, hanno di fatto, come dire, segnato proprio una pesa di distanza rispetto al percorso che Gini aveva intrapreso. Grazie. 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 Grazie.